Cominciamo questa puntata di Insider, cari amici di Controradio, ben ritrovati da Paolo Ruscito, parliamo di elezioni europee, si voterà per rinnovare il Parlamento di Strasburgo il prossimo 25 maggio. Con noi quest'oggi abbiamo in studio una candidata nella circoscrizione sud del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia, benvenuta a Controradio. Grazie, buongiorno a tutti. E allora, 26 anni, studentessa in architettura, anche lei è salita ieri sul palco insieme a Beppe Grillo, tantissimi presenti, almeno 5.000, probabilmente se ci fosse stato anche un altro luogo da fare da cornice a questo comizio ci sarebbe stata anche più gente, ma la città di Bari sappiamo che in questi giorni è al centro di tantissime iniziative culturali, sportive e ovviamente anche politiche. Un intervento molto lungo, come sempre molto acceso, toni delle volte un po' esasperati, ma soprattutto i sette punti che voi intendete portare in Europa. Sì, allora, i toni esasperati è perché la popolazione è esasperata. In effetti i nostri sette punti appunto sono solo sette, perché il Movimento 5 Stelle, a mio parere, promette solo ciò che sente di poter mantenere. Innanzitutto sono punti che riporteranno la sovranità al popolo, riporteranno la sovranità all'Italia, quindi abbiamo l'abolizione del pareggio di bilancio, che frena qualsiasi investimento, che potrebbe aiutare davvero noi giovani a reinventare, a trovare un nuovo lavoro. L'abolizione del fiscal compact, questo trattato che davvero ci distruggerà, perché ci porterà a tagliare 40-50 miliardi all'anno per 20 anni, finanziamenti alle attività agricole, di allevamento, alla pesca, che altro. In ultima istanza abbiamo il referendum sull'euro, qualora tutte le nostre proposte non saranno accettate, qualora vedremo che questa Europa non ci vuole in qualche modo. Parliamo appunto del fiscal compact, perché questo è un impegno che l'Italia ha assunto e che porterà sicuramente presto a dover tagliare la spesa ogni anno di parecchi miliardi. Adesso senza entrare nell'ambito della polemica politica, in realtà sono tantissime, cari ascoltatori, le forze impegnate in questa campagna elettorale che puntano il dito contro questo strumento. Ascoltiamo, invito la regia a mandare in onda la clip 01 per ascoltare proprio le parole di Beppe Grillo su questo strumento e sulle conseguenze che tutto questo potrebbe avere per i prossimi anni in Italia. Noi vogliamo andare lì a vedere cosa hanno firmato e chi l'ha firmato. Il fiscal compact è un trattato, un impegno che abbiamo firmato per diminuire della metà del debito in vent'anni. Il nostro debito è 2.100 miliardi, la metà è 1.100 miliardi, 1.100 miliardi, 5% all'anno per vent'anni. Devi tagliare 55 miliardi all'anno per vent'anni. Oh, gli economisti vanno in televisione, questi pezzi di merda dei giornalisti. No, no, ferma, ferma. Ho detto pezzi di merda. No, no, mi è scappato. Ritiro, ritiro. Questi giornalisti fanno dire agli economisti, questi che non hanno azzeccato a uno agli economisti, li fanno dire che non è vero. Non è vero perché c'è la crescita e allora dobbiamo tagliare solo niente, quasi niente. Per tagliare quasi niente bisognerebbe crescere da 8 a 12% di percentuale, dall'8 al 12, che è la percentuale del 1960, dell'anno del boom. La nostra crescita fino all'anno scorso, 2013, è stata meno 1,9. Il Fondo Monetario ha detto che per il prossimo anno sarà 0,3, 0,4 se vi va bene. Quindi una crescita dell'8 o del 12, la probabilità, detto il Fondo Monetario, è 0,0. Quindi dovremmo tagliare 55 miliardi ogni anno per 20 anni. 55 miliardi, e sta già avvenendo. E allora chi ha firmato questo? 2011, 27 di luglio, Festival dell'Unità, Floris, intervista, Gargamella, Bersani, Gargamella, al Festival dell'Unità, alla domanda, ma voi firmerete un trattato così? Lui dice, andatelo a vedere per piacere, lui dice, non firmeremo mai una cosa così che strangolerebbe, bisognerebbe essere pazzi. Due mesi dopo il PD, unito all'unanimità, hanno firmato. Il PDL, nella presenza di Tremonti, dice, sarebbe un suicidio economico e sociale firmare una cosa così. Dopo tre mesi hanno firmato all'unanimità. Questa è la legge, è la gente con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Noi non abbiamo firmato un cazzo, noi andiamo là, prendiamo il fiscal compact e glielo strappiamo davanti alla Merkel. Questo è un tema centrale, Antonella Laricchia. Tra l'altro, cari ascoltatori, questa è una radio, voi non potete ovviamente assistere a quello che vedo. Antonella Laricchia ha una sorta di manuale, come fosse l'università. E questa è una caratteristica, spesso tutto questo non viene reso noto all'opinione pubblica. Perché passa questa immagine nel Movimento 5 Stelle come chi è alle prime armi, e trappellano informazioni relative al gossip e ad altro. Noi da sempre, ma non lo diciamo perché sia in campagna elettorale, cerchiamo invece di capire qual è il messaggio che vuole lanciare il Movimento 5 Stelle e i temi che vengono trattati, analizzati e portati nelle sedi istituzionali. Lo studio ovviamente è la base, la ricerca è importante per capire meglio, capire le istanze dei cittadini e trovare delle soluzioni. Come se ne esce da questo fiscal compact? Sì, esatto. Allora, intanto ci tengo a precisare ciò che hai detto prima. Tu hai detto giustamente che adesso molte forze politiche cavalcano un po' questo nostro cavallo di battaglia per cui vorrebbero uscire. Però guarda caso, i nostri due capolisti dei principali partiti, cioè sia Fitto che Lapicerno, hanno votato il fiscal compact. Loro sono i due che hanno votato, insieme a tutte le altre forze, nel luglio del 2012, quando noi eravamo comodamente al mare, perché le porcate le fanno sempre in estate o a Natale, hanno votato, hanno ratificato questo fiscal compact in Italia. Dunque, le modalità di uscita, naturalmente, come tu hai detto, noi dobbiamo verificarle, dobbiamo vederle insieme. Però valga per tutti l'esempio della Convenzione di Vienna, che stabilisce che nel momento in qualsiasi trattato può essere in qualche modo abolito, nel momento in cui uno Stato, come il nostro, non ha la possibilità economica di poter sostenere delle promesse, appunto una firma effettuata in un momento in cui magari pensava di stare un po' meglio. Quindi il fiscal compact, come tutti i trattati, non sono delle leggi divine, sono delle leggi umane che si possono superare, che si possono abolire, nel momento in cui c'è la volontà politica. E finora, vi assicuro che nel Parlamento europeo non c'è stata, perché i nostri parlamentari italiani non ci vanno, non si sono mai seduti al tavolo. Non è che noi chiediamo di fare la voce grossa. Loro non hanno mai fatto neanche la voce sottile. Davvero sono i più assenteisti di tutto il Parlamento. E allora, questa è una delle tematiche principali del programma del Movimento 5 Stelle, ma c'è anche ovviamente quella sul lavoro e sulla corretta gestione dei fondi comunitari. Sentiamo ancora un breve frammento del comizio di Beppe Grillo sulla gestione dei fondi comunitari e su cosa c'è, dal suo punto di vista, la base delle operazioni di delocalizzazione all'estero. Se andiamo lì noi, i nostri soldi devono avere una faccia, un nome, un responsabile e il progetto lo devi descrivere in rete, se no non prendi una lira! La trasparenza! Ma guardate che non siamo mica più onesti degli altri! Se tu metti un faro su chi ruba, non ruba più! Noi non siamo più onesti degli altri! Guardate che vi state sbagliando! Perché non è un pregio essere onesti! La nostra onestà è un tic! È un tic nervoso! Io non mi sento superiore! Io sono così! Io non lo metto nel culo al mio prossimo perché mi viene naturale! Va bene? Li tengono là, sono nostri soldi, ne tengono 5 o 6 perché è l'unità, è l'unione! Una parte di questi soldi vanno a finanziare il governo rumeno che fa degli sconti fiscali a 36.000 aziende italiane che delocalizzano là e fanno tre punti di PIL per la Romania! Allora io cosa ho detto quando sono andato là con un avvocato e con un magistrato? Ho detto che questi soldi qua che date al governo rumeno ce li teniamo noi perché li usiamo per le nostre imprese che devono stare in Italia con la defiscalizzazione che fa la Romania! Ne li facciamo uguali! Anche questo è un grande problema del nostro paese tra i più annosi! Qui c'è da una parte la corretta gestione dei fondi comunitari, sappiamo che comunque la Puglia si distingue in positivo in realtà nel mezzogiorno d'Italia, un plauso è stato fatto anche nelle settimane scorse dalla Commissione europea, però è una questione da affrontare che si collega al dramma europeo e nazionale dell'emergenza lavoro! Sì, allora bisogna pensare che noi appunto diamo all'Unione Europea circa 14 miliardi di euro all'anno, ce ne ritornano più o meno 8, la maggior parte dei soldi che ritornano appunto vanno a finire in queste regioni a maggiore infiltrazione mafiosa, ci tengo a dire alle regioni a maggiore infiltrazione mafiosa, alla mafia di queste regioni, non ai campani, ai calabresi, ai siciliani, perché loro poi alla fine veramente finiscono per non vedere neanche un euro e su questi soldi poi spessi male noi ci paghiamo pure le multe, quindi oltre al danno veramente è la beffa italiana, oltre al danno europeo io dico la beffa italiana, quindi una delle primissime cose che andremo a fare è esattamente questo, cioè capire che fine fanno i finanziamenti, chi li spende, dove li spendono, perché li spendono, in qualche modo appunto l'Unione Europea deve essere la comunità, invece è diventata la comunità europea, invece è diventata una maniera per arricchire i soliti, per arricchire poche banche, come ha detto Grillo ieri, noi dobbiamo separare, le banche si devono separare tra quelle che veramente vogliono fare le banche e quelle che fanno speculazione, ecco perché il problema alla fine non è tanto l'euro, ecco perché è diventato l'ultimo dei nostri punti, ma è proprio tutto il modo di gestire l'Unione Europea con questi trattati, con questa economia che invece di essere l'economia delle cose, della cicoria per dire, della spesa, è diventata l'economia, è diventata finanza. Antonio Laricchia, siamo quasi al termine di questa intervista, però vorrei che parlasse in maniera sintetica, ma facendo capire i nostri ascoltatori di che cosa si tratta, della questione relativa al reddito di cittadinanza e poi soprattutto una corretta gestione delle politiche comunitarie e come si ripercuote positivamente sul nostro territorio, sul territorio pugliese che lei vorrebbe andare a rappresentare a Strasburgo. Sì, allora il reddito di cittadinanza è appunto un reddito che viene garantito mensilmente, circa 800 euro, noi tra l'altro questa proposta è valutata in rete, siamo tantissimi cittadini che la stanno scrivendo insieme ai parlamentari, la stanno emendando, proprio noi da casa comodamente, che viene garantito e per circa tre volte insomma gli viene proposto a questo cittadino che non ha un reddito un posto di lavoro, se lo rifiuta dopo alla terza volta perde il diritto al reddito di cittadinanza. In Europa si decidono tantissime cose, questo dobbiamo capirlo, non è un'istituzione lontana, si decide addirittura la larghezza delle maglie da pesca dei pescatori, i nostri pescatori sono disperati, si decidono i prezzi delle arance, si decide qualsiasi cosa, si decide della vita dei marittimi, davvero l'agricoltura e la pesca sono decise in Europa, adesso c'è anche il trattato Unione Europea-Stati Uniti su cui sta lavorando la Commissione Europea per mandato segreto di alcuni stati membri, non ci deve essere mandato segreto nel più grosso accordo commerciale mai tentato, quindi appunto i cittadini devono andare lì come sono andati nel Parlamento Italiano per riportare l'Europa ai cittadini stessi. Perfetto, è chiaro che il 25 maggio si andrà a rinnovare l'Assemblea di Strasburgo e cercheremo anche di scoprire poi quale sarà la mappa politica dell'emiciclo di Strasburgo, questo forse sarà fondamentale, come si collocherà il Movimento 5 Stelle? Perché per esempio si è parlato di alleanze un po' tra forze in realtà eterogenee che però hanno collaborato negli ultimi anni, penso ai popolari e socialisti, questo è l'esempio che viene sempre fatto. Sì, lo so, per fortuna però nel Parlamento Europeo non si possono fare grosse alleanze eterogenee perché proprio per regolamento, perché si crea un gruppo, ci deve essere affinità politica, quindi il nostro programma diventa fondamentale perché è proprio sui programmi che si formano i gruppi, ci vogliono 25 parlamentari di 7 stati membri diversi per formare un gruppo, noi non sappiamo chi arriverà, è un'incognita questo Parlamento, non ci definiscono neanche euroscettici come magari definiscono la Lega, non sanno davvero come definirci, quindi andremo a vedere chi incontreremo. In ultima razio vi dico che qualora non si potesse creare un gruppo, che tra l'altro noi valuteremo in rete come crearlo, con chi ci alleremo, si può sempre in 40 di qualsiasi Stato e di qualsiasi gruppo politico presentare delle emozioni, delle interrogazioni, emendamenti al bilancio, insomma si possono comunque, si può lavorare comunque pur non essendo in un gruppo. In ultima istanza, perché ha deciso di candidarsi e quale contributo vuol dare per portare, ripeto, le istanze della Puglia in Europa? Allora, nel Movimento 5 Stelle non mi sono candidata ma mi candidano, è sempre così davvero, mi ha scelto la rete, mi hanno scelto prima i miei ragazzi, i miei amici di Adelfia e poi da lì i miei amici del sud-est barese e poi tutta l'Italia meridionale. L'ho fatto perché appunto credo che sia finito il tempo di delegare i propri voleri, le proprie volontà, le proprie esigenze a un'altra forza politica, a qualcuno che debba rappresentarti. Quello che andrò a fare, io naturalmente studio architettura quindi mi sarebbe piaciuto occuparmi di efficienza energetica, di arte, di cultura, di rivalutazione, di turismo, però in realtà perché sono tutte cose molto collegate, però in realtà penso che andrà a finire, che mi occuperò appunto di agricoltura, di pesca, perché sono le istanze che vengono dai cittadini che incontrano ogni giorno in piazza, che mi passano materiale e mi dicono cosa fare. Noi saremo dei portavoce, per questo anche l'Abbate per esempio, nella Commissione Agricoltura il deputato del Movimento 5 Stelle da informatico si occupa benissimo di agricoltura, perché ascolta i cittadini e tutto lì il segreto. E allora questo è l'obiettivo di Antonella Laricchia e del Movimento 5 Stelle, noi continueremo a seguire la partita dell'Europe così come quella delle comunali fondamentale per la città di Bari, io ringrazio per essere stata con noi Antonella Laricchia, candidata con il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Italia Meridionale. Grazie a voi, arrivederci. Noi ci fermiamo, linea alla regia e poi torniamo in diretta ad Insider. Insider, dentro la città.